Musica Elezioni regionali, accorpamento delle Camere di Commercio di Pistoia e Prato e rinnovo delle cariche regionali e nazionali di confartigianato. Sono le partite che si giocheranno nei prossimi due mesi a livello locale e nazionale e che incideranno sullo sviluppo e l'attività delle imprese. Scelte politiche, tecniche e strategiche a cui confartigianato Imprese Prato guarda con attenzione nell'ottica di informare i propri associati e porsi come interlocutore rispetto ai nuovi organi istituzionali che subentreranno a stretto giro. Iniziamo infatti a breve con l'elezione e il rinnovo del Consiglio regionale, con un nuovo presidente, per cui l'incertezza in questo momento ci fa stare molto attenti a quelli che potrebbero essere i risultati di questa elezione perché ovviamente questo potrebbe cambiare molto le politiche territoriali adottate dalla regione sul nostro territorio. Proseguiamo poi con la fusione ormai imminente. Il 30 di settembre ci sarà l'insediamento del nuovo Consiglio camerale, e quindi la fusione fra le due camere, più che fusione direi accorpamento, delle due camere di commercio di Prato e di Pistoia. Proseguiamo poi con quelli che sono gli interessi prettamente veramente legati al nostro sistema associativo e cioè il rinnovo della dirigenza a livello nazionale. È stata individuata la data del 3 di dicembre dove terminerà il mandato di Giorgio Merletti e sarà insediato e nominato un nuovo presidente che condurrà per il prossimo quadriennio tutto il sistema associativo. Immediatamente prima di quello dovrebbe svolgersi invece anche il rinnovo delle cariche a livello regionale. Quindi un'associazione che è ben attenta e che è soprattutto presente su tutti quei tavoli dove si deciderà non soltanto le sorti di quelle che saranno le strategie da adottare sui vari territori, ma anche dove si deciderà l'indirizzo di quello che sarà il futuro non solo del sistema associativo, ma anche del comparto produttivo. Una fase di grandi cambiamenti su cui pesa anche la delicata emergenza sanitaria legata al Covid che potrebbe determinare nuovi scenari già dal prossimo inverno. Intanto si pensa all'imminente fusione delle camere di commercio pratese e pistoiese, un passaggio che secondo Confartigianato porterà benefici in termini di razionalizzazione del lavoro e omogeneizzazione delle interpretazioni normative. La sede di Prato rimarrà a Prato normalmente, la sede di Pistoia rimarrà a Pistoia, quindi ci saranno funzioni che saranno adempiute normalmente, soprattutto in un momento come questo con il Covid che ci ha visto protagonisti anche di una rivoluzione digitale in qualche maniera. Uno degli elementi che possono accadere con la fusione è proprio quella di una sorta di omogeneizzazione di quelle che sono le interpretazioni normative. È capitato in passato che una camera desse un'interpretazione rispetto all'altra camera, per cui in un territorio piccolo come quello della Piana tra Prato e Pistoia effettivamente avere due interpretazioni di tipo diverso è un assurdo in termini. Questa cosa ci porterà sicuramente anche dei benefici in termini normativi. Sicuramente questa fusione si porta dietro anche anni e anni di collaborazione che abbiamo avuto con le associazioni di Pistoia, per cui non ci preoccupa assolutamente l'accorpamento. Siamo talmente sicuri che il lavoro svolto in tutti questi anni di concerto, insieme, fianco a fianco, si svilupperà ulteriormente anche per il futuro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS